Bentornati su Radio Design, oggi una prima volta per il nostro Arby, benvenuto. Grazie, grazie. Sono sempre io, Nicola, qui docente di web marketing, qui questo fantastico studente di interior design. Come va? Bene, bene, bene. Microfono vicino alla bocca, mi raccomando Arby, mi raccomando. Allora, perché abbiamo scritto spoiler alert? Perché oggi subiremo gli insulti di tutta la gente. Siamo questa volta in diretta non su Radio Design, ma sulla pagina, siamo live su Facebook, sulla pagina dell'Istituto Italiano Design. Assurdi. Quindi se non avete visto il primo e non avete visto Game of Thrones, vi suggeriamo di non andare avanti o fermarvi qui. Ogni tanto lo ripeteremo per chi si collega man mano. Potrebbe causare danni, ecco. Questa è la prossima puntata di questo programma che ha un titolo bellissimo che Arby ha pensato per noi. Come si chiama il programma? Got It. Ma è stata un'idea, dai, non me li prendo tutti i meriti. Dai, non te li prendo. Non me li prendo tutti i meriti. Diciamo che è stata una cosa collaborativa. Collaborativa. È stata collaborativa, sì, sì, sì. Senti, allora, io dovrei recuperare tutte le stagioni, ma magari tu ci puoi fare un recap, che ne so. Io non mi ricordo più niente. Veloce. Allora. Non mi ricordo più niente. Dove eravamo rimasti? Se togliamo tutte le miriadi di morti che ci sono state prima, possiamo dire che sono rimasti più in pochi. Eh, infatti, Stark sono morti tutti. I Stark, sì, sono rimasti 3-4, ma... Decapitati, cose del piano. Sì, sì, tutti decapitati. Qualcuno anche con una testa di lupo dentro. Non si sa. E comunque no, ci eravamo lasciati con il finale della scorsa stagione, che è bomba. Figa, parli di milanese. John Snow. Giovanni Neve. Giovanni Neve, che è riuscito a conquistare la regina dei draghi. Ah, è vero. C'era questo flirt pazzesco. Esatto, esatto. In quel castello top. Che hanno concluso. Hanno concluso. Hanno concluso, sì. Hanno figliato, come si dice. Eh, sì, anche se in teoria lei non può figliare, ma... Solo draghi. Sì, solo draghi, solo draghi. Però la cosa importante, ultima proprio scena della stagione sette. Sette? Ah, sette stagioni. Il drago che distrugge la barriera. Ah, il drago che distrugge la barriera. E lì arrivano... E lì entrano gli estrani. Winter has come. Winter has come. Esatto, esatto, esatto. Quindi ci erano fermati a questo. Esatto. Perché io anche mi ricordavo questo, tu pensa. No, no. Che eravamo arrivati... Riparte, riparte. E' tornato, eccoci. Oh, dicevamo, spoiler alert. Partiamo... Io non ho visto niente, ripeto. Allora. Vai con lo spoiler reaction, live reaction, come youtuber americane. Ok, ok. Allora, parte... L'episodio parte con una scena che noi conosciamo benissimo. Attenzione. Sembra quasi un rewind. Ok. Bambino a Winterfell, quindi a grande inverno. Attenzione. Che si arrampica. E Joe Snow. No, è Bran. No, spoiler, primo spoiler. No, no, no. Bambino che si arrampica. Sulla torre. Che assomiglia molto a Bran. Ok. Quindi si arrampica. Bran, ricordiamolo per chi non si ricorda. Era il bambino che è caduto dalla torre. Quello che hanno lanciato giù perché ha visto schiacciare. Perché ha visto schiacciare i due fratellini. Ok. L'esercito di Daenerys che arriva a grande inverno insieme a Jon. Attenzione. Quindi armata infinita di Dutrachi e Immacolati. Ok. E casino due draghi che volano sopra le teste degli abitanti di grande inverno. Perché uno era morto, se non sbaglio. Quello che ha buttato giù la barriera. Quello che ha buttato giù la barriera. Casino. Tutti che si spaventano. Oddio, oddio, oddio. Spoiler, ve lo dico. Spoiler. Questo è spoilerissimo. E quindi io almeno l'ho presa come un ritorniamo alle origini. Qui parte l'interpretazione di Arby. Esatto, esatto. Ritorniamo alle origini. Cioè dopo tutto quello che è successo in queste sette stagioni. Ricominciamo l'ottava ripartendo da Winterfell. Cioè l'inizio. Sì. Un ritorno alle origini. E quindi questo secondo me è una parte fondamentale. perché adesso abbiamo il primo episodio che secondo me è un fanservice. Molto fanservice. Aspetta cosa vuol dire fanservice. Fanservice ovvero è un episodio creato appositamente per soddisfare i fan. Ok. Quindi è un episodio dove non c'è molta azione. Attenzione. Ma ci sono molte reunion. Ok. Una di queste è tipo Arya che rincontra Clegane che aveva lasciato moribondo. Che aveva lasciato moribondo. e Gendry. La sua diciamo fiamma. Diciamo fiamma. In questo incontro molto veloce. Arya chiede anche un'arma a Gendry che è diventato il fabbro di Grande Inverno. La spada la usa più... Arya? Aria. Eh ma perché per combattere gli estranei la spada sua... Che ci fa? Che ci fa. Che ci fa. Che c'è proprio una nuova arma fatta con il vetro di Drago. Ma lei c'ha sempre queste facoltà di essere chi vuole. Sì sì lei oramai è diventata nessuno. Nessuno. Quindi è assurda. E Arya... Eh sto zitto se no troppo spoiler. Lo dico ma Arya ti piace perché per me è un cesso. No a me non piace. A me non piace. A me non piace no. Molto meglio Daenerys. O Sansa. Sansa. Anche se Missandei non si batte. Missandei è la traduttrice di Daenerys. Altissimo livello. Sì ho capito. Tanta roba. Tanta roba. Quota. 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 E quindi continuiamo. Scusate per questi miei... No no ma perché tanto il trono è questo. Il trono è questo. È partito con questo. Cioè scusate. C'era tanto schiaccio e poca trama. Adesso c'è tanta trama e poco schiaccio. Per forza. Quindi puntata di reunion. Reunion. Sì esatto. Perché sicuramente a livello narrativo vogliono riportare tutto a zero per... Sì hanno fatto molto... Hanno fatto il punto. È stata una puntata in cui hanno fatto molto il punto della situazione. Hanno ripreso dove avevamo lasciato. Certo. Hanno detto ok queste sono le questioni. Quindi hanno fatto vedere anche una scena molto inutile secondo me. Attenzione. Queste grandi critiche del nostro esperto cinematografico. Sì sì. C'è alta laurea. E dove John cavalca per la prima volta il suo il suo drago che è Regal e fa un volo mod avatar. Dove hai visto quando su avatar lui prende il suo drago e gira. Lui uguale prende Regal e fa un giretto così. E fa vedere il paesaggio. Sì sì con Daenerys dietro che gira anche lei e finiscono su una cascata non si sa e pomisciano. Diciamo i comuni mortali usano il motorino e loro usano i draghi. Sì sì. E pomisciano. E pomisciano. Così a caso. Un bacio che dato da due sconosciuti così a caso presi per strada sarebbe stato più enfatizzante. Cioè quindi stai accusando Game of Thrones di aver fatto una scena triste e deprimente. Sì sì sì. Considerando che hanno speso il budget di dieci episodi in sei e questo episodio ha speso tipo milioni per un volo di due draghi che non serviva a niente. E tu l'hai visto come un pirla. Esatto. Ecco come noi e come tanti milioni. Purtroppo. 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 Ok poi cos'altro accade? Ah poi l'unica scena di azione che ha meritato è Theon il ragazzo che aveva subito le torture. Poverino. Lui proprio un martire. Un martire veramente. Che salva la sorella. Quello Monco. Esatto. Che salva la sorella. Ah mi ricordo. Che era stata rapita dallo zio. Sì. La salva. E ripartono. Un salvataggio che io mi aspettavo tipo tre episodi solo per salvare. No entra, la prende, esce. Capite? Era lì. Cioè tipo la trovano per strada. Perché sono solo sei puntate e qualcosa l'hanno dovuto. E poi tra l'altro con i miei amici facciamo il fantatrono. Attenzione. Apriamo il fantatrono a tutti qua. Fate il fantatrono ragazzi. Fate il fantatrono. Commentate. Vai. Qual è l'opinione? Chi morirà? Immagino. No. Sto zitto. Troppi spoiler. Troppi spoiler. Chi muore. Sto zitto. Però la cosa è Theon non l'ha preso nessuno perché dice Cazzo fa Theon. Chi? Chi è Theon? Ormai ha fatto quel che doveva fare. Invece no. Cioè? Ha fatto una marea di punti. Perché tipo salvataggio più 20. Salva la sorella più 20. Ah perché? Uccide le persone più 40. Ah perché voi fate il fantatrono su le azioni che possono... No no ma c'è una pagina non mi ricordo il nome che proprio ha fatto questo fantatrono con le regole e quindi tu ogni settimana ti guardi la classifica. Chi ti sei comprato? Io ho preso John. Che vabbè John è John. Scusa ma che... Quanto l'hai pagato? 100 crediti. Ne ho 500. Ah donna mia quindi... Poi ho preso Tyrion. Perché Tyrion? Vabbè. Tyrion. Jamie. Perché secondo me Jamie... Adesso ha fatto poco. Jamie Lannister. Sì. La presa è basta. Però adesso la seconda parte secondo me... Riparte la grande. Spacca, spacca. Sì 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 sì. Poi che abbiamo preso? Ho preso i due draghi. Raekha del Drogon. Hai preso i due draghi? Sì sì. Ho preso pure i draghi. Ho preso Jorah. Jorah Mormont. Il frenzonato di Daenerys. Il vecchietto che è stato curato dal morbo. Ah. Capito? Sì sì. Vagamente, vagamente. Vabbè comunque... Il monco che fine ha fatto? È sparito? No il monco ha preso la sorella e... La sorella è andata a riconquistare le isole di ferro? No, il monco dicevo... Il moncherì. Il... Scusa. Ah, Jamie. Quello senza la mano. Eh. Jamie? No, Jamie adesso è grande inverno. Perché ha lasciato la sorella. Nell'ultimo episodio. La madre va a cagare. Sì 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 sì. Gli ha detto tu fai quello che vuoi, io vado a combattere per i vivi. E che fine ha fatto invece la princess? Eh, la princess adesso ci arrivo, zio. Eh, vai. La princess è un casino. La mia attrice preferita. La princess è un casino perché la nostra cara Cersei finalmente è riuscita ad avere la Golden Company, la compagnia dorata, che viene da Essos, 20.000 uomini. Ma i neri quelli? No, quelli ce l'ha solo Daenerys perché lei spacca e quindi lei ce l'ha solo lei. Queste chi sono? Queste sono una compagnia che viene assoldata durante le guerre e sono gli unici che... Sono proprio mercenari. Ok. Basta. Ok. E arrivano. E qua bellissimo perché ci sono tipo 3.000 meme su Daenerys che voleva gli elefanti. E arrivati chiede questi elefanti e gli dicono guardi gli elefanti non si possono avere perché non resistono a lungo viaggio in mare. Giustamente. Come cazzo? Eh, incazzatissima. Voleva gli elefanti. Voleva gli elefanti. Ho visto una meme assurda con Daenerys sopra un drago che sputa fuoco e Cersei sopra Dumbo che sputa l'acqua e quindi devastanti, devastanti, devastanti. Bello, questo direi che è notevole. E no, quindi Cersei, ciao, ciao, gradissimo. Mitica. E... Ah, una cosa abbastanza cattiva è Cersei che manda il maestro Kiburn, quello che ha fatto tutto il casino con l'alto fuoco, no? Sì. Quello. lo manda da Bronn, che è amico sia di Jaime che di Tyrion, e gli dice uccidimi i fratelli. Peso questo. Peso, perché sul Fantatrono questa è commissione per omicidio più 40 punti. Sì, e l'hai perso. Eh, non l'ho preso. No, eh, cioè, ho preso quelli più importanti perché dico mancano sei episodi, faranno il botto. Faranno il botto, no. Ma tu l'hai fatto anche gli anni scorsi il Fantatrono. No, no, solo quest'anno. Solo quest'anno. Eh, infatti se lo sapevo. E qual è stata la cosa più top della puntata? La cosa top della puntata è stata la rivelazione, la rivelazione finale. Cioè questo spoiler pazzesco. Eh, questo, attenzione, questo può, qua, fermi, se non l'avete visto, è la fine. Ok. Arriva il nostro caro amico Sam. Sono pronto per la reaction, vai. Sono il nostro amico Sam. Incontra Daenerys. che gli dici, lo ringrazia prima di tutto per aver salvato Giora. E poi da una rivelazione scioccante, che è, ho ucciso i tuoi genitori, ho ucciso tuo padre e tuo fratello. Che bombe. Che erano i lord. Sì. Lì, quelli che ha bruciato, no? Dopo, dopo l'asserio ad alto giardino. E lei la fa secca, la fa secca. E Sam, incazzato come una bestia, esce, va da Bran e gli dice, oh, zio, dobbiamo dire a John che lui è il vero erede al trono. Ah, è bomba, infatti mi ricordo questa cosa che è rimasta. È lui il vero erede al trono. E glielo dicono? E Bran gli dice, vai tu. Gli dice, vai tu, io non sono suo fratello, sono il corvo a tre occhi, tanto ormai si è montato la testa. Ah, giusto, lui sta con l'albero. Si è montato la testa, sì, si è montato la testa. Di Dodò, l'albero di Dodò. E quindi, ecco, è partito, va da John e gli dice, tu sei l'erede al trono. E lui dice, no, guarda, io ho rinunciato alla mia corona, perché lui era il re del nord. Lui gli fa, no, no, zio, non hai capito? Tu sei il figlio di Regal e di Lianna Stark. E ti sei schiacciata tua cugina, tua zia. Tua zia. E quindi lui rimane. Sull'incesto come ci rimane, John? Eh, eh, di merda. Eh, quindi rimasto, rivelazione shock, perché lui non ci crede. E top, frase di Sam, che gli dice, tu hai rinunciato alla corona per il bene del tuo popolo. Eh, adesso? Lei farebbe lo stesso. Della tipa? Della tipa. Come si chiama? Daenerys. Daenerys farebbe lo stesso? Eh. Perché effettivamente deve abdicare a favore di quello che si schiaccia. In teoria perché lui è il legittimo re del trono. Eh, perché essendo uomo... Eh. E poi è il figlio del primo di Regal, doveva essere re. Eh. Essendo lui il figlio del re, è il re lui. Eh, è partito dallo sfigato, dalla prima stagione. Infatti, nella prima stagione lui, tormentato dal fatto di essere un bastardo, voleva andare via, andare... E invece... Devastante. Devastante. E come la prende sta cosa? Cioè, lui che... No, la scena finisce con lui, con la sua solita espressione dove non dice niente. Cioè, la faccia da Joe Snow, you know nothing. Adesso potrebbe morire e risorgere. Sì, sì, sicuramente. E quindi finisce così. La scena poi finisce con l'intero episodio, finisce con Bran, che non si sa, l'hanno lasciato sul giardino di Grande Inverno per tutto l'intero episodio. Lui stava così, fermo, non si muoveva. Che prima aveva detto, sto aspettando un mio vecchio amico. Tac, arriva il suo vecchio amico, Jamie Lannister, arriva Grande Inverno. Eh. Arriva Grande Inverno, si incontrano. Eh. E lì finisce l'episodio, con Jamie che si toglie il cappuccio e guarda, dopo ben sette stagioni, il bambino che aveva gettato dalla torre. Pesante. E Bran, la reazione... Lui pensava fosse morto. No, lui sapeva che era vivo, però sapeva anche che apposta il suo essere era diventato un bambino, insomma, che è un po' prodigio. Un po' prodigio, un problematico, che guarda l'albero. Sì, sì, guarda i corvi che girano. Quindi dice, questo era uno sfigato e invece fosse un bomber, questo penso. Sì, sì, sì. Ma Jamie Lannister è diventato uno dei protagonisti, secondo me. Attenzione, qui a questo punto lancerei il sondaggione. Chi diventerà il... A parte Jon Snow, che forse... Jon Snow se non va sul trono prendo Martin e lo disintegro. Allora, io faccio un forecast, non ho visto niente. Secondo me finisce tutto che Jon Snow muore. È quotata. È quotata? È quotata. Quanto è quotata? Purtroppo è quotata. La votazione o la somma è quotata, sono sicuro. Ah, io dico che Jon Snow muore all'ultima puntata e si sacrifica per il bene di bla 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 di tutti. Secondo me Jon Snow uccide Daenerys. No, secondo me sì. Ah, qui partono le quotazioni. Secondo me sì. Jon Snow uccide Daenerys o Bran. Puoi decidere, ci giochiamo. Ho il tuo voto finale all'esame. Oppure ci giochiamo dei soldi? I soldi. No, l'esame no, l'esame no, l'esame no. Allora, facciamo un aperitivo. Un ape. Un aperitivo. Un ape, un ape, un ape. Allora, oggi ci scommettiamo un aperitivo. Cioè ogni puntata ci scommettiamo qualcosa. Ok. Finiamo malissimo. Ma guarda che io le guardo in diretta. Tu le guardi dopo, quindi io vinco e tu no. Ah, tu dici. Ma non è così, perché poi alla fine le cose vanno sempre a cazzo di carne. No, no, fatti vero, vero, vero. Quindi potrei dire una cosa ora che è improbabile e poi avviene. C'è, 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 c'è. Anzi, spesso ci sono questi capovolgimenti che fanno fuori bomber. Quindi secondo me... Ah, c'è un altro spoiler che mi devi fare. Sì, la prossima puntata, la prossima puntata. La prossima puntata. Allora, io dico che Jon Snow muore per il bene di tutti. Perché alla fine Jon Snow, questo, l'hanno provato a ammazzare sempre. Quindi deve morire. Alla fine deve morire. È come Ciro Di Marzio di Gomorra. Ah, non ho visto Gomorra. Ah, va, devi vederlo. Non ho visto Gomorra. Va bene, allora è stato un sogno. È stato devastante, sì. Lasciate i vostri commenti, tipo youtuber, lasciate il vostro commento. Lasciate un like, iscrivetevi. Lasciate un like, iscrivetevi. Poi metteremo questo podcast su Spotify, Spreaker, iTunes, quindi lo troverete ovunque. Lo mettiamo anche per strada. Cioè camminate e voi lo trovate per strada. Facciamo il QR code e così potete ascoltarvelo. E niente, buon spoiler a tutti. E buon Game of Thrones. E buon GOT a tutti quanti e ci vediamo la prossima settimana. La prossima settimana. Bene, con altri spoiler. Quindi mi raccomando, è stato veramente un sogno. Arby, grazie. Valar Morghulis. Al prossima. Grazie. Grazie a tutti.